a mille bentornati in un nuovo video oggi simona ha guidato la kia andiamo alla toys siamo a vigevano e stiamo entrando alla toys adesso cancello prima di entrare devo cancellare un po di roba perché ho solo 15 minuti penso di farcela comunque ecco dovevo entrare nel parcheggio qui però ma vabbè c'è il black friday già si vede andiamo questo fa l'orario continuato è un sabato io madonna mi hai fatto chiudere che carino l'ho fatto io sì sì bello ora che bella troppo piccola dimmi simba andiamo 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 nel reparto bubi ragazzi guarda ma io sono questi qua sono curiosa di qualcuno di voi ce li ha anche di questi ma sono curiosissimo guarda questo perché sei carino noi sono curiosa di quelli urbi 70 euro donna dove siamo dove siamo luna che carino provami l'ho l'ho lì ma vedi queste qua non c'erano l'altra parte guarda si guarda le mosse che belle qua ci sono ecco lei lei guarda questa che bella e lei è quella di questa e qua ci sono gli accessori queste l'hanno già aperte i barboni questa è bellissima madonna guarda anche questa è stupenda guardala e dietro c'è quella che è la tua mamma mamma che fanno queste cose belle Maledetti perché fanno queste cose belle Questa è tutta uguale Meno male Maledetti Qua vedo diverso Oddio Ah Rainbow Vision Aspetta che non riesco a tenere il telefono Questa è Rainbow Vision Quella lo chissà a 36 su Vinted Questa? Sì Quanto costa qua? Mi sembra 45 Eh nel 46 45 Maledetti Vabbè non devo far trovarmi Dai basta Basta Ancora sopprovivano Cos'è? C'è un maschio C'è un maschio E c'è l'altra rosa Non mi hai visto Guarda quelle con le cuffie Aspetta Aspetta Oh non c'è più niente Il letto delle Monster High Miraculous Winx Sergino Winx Nella tua mano E nella mia Qua è Lolly Lolly Tutto Lolly Tutto Lolly C'è tanto anche di Lolly Guarda lì che Che belle Mi hai detto molto bello Veramente Ma Guarda che adesso costa Sì Siamo Reparti Barbie Anche queste Sono Molto Lexa Tutte sempre le stesse Stanno Queste non ne abbiamo manco una Eh Sempre le stesse Sempre le stesse Sempre le stesse Che cosa Questo cappello è bello Mi piace Questo anche Mi è meglio Sono sempre tutte uguali Barbie Quelli del film Ma scusa Quelli del film Quelli del film Vi faccio vedere Una panoramica Quello Ma Sì ma Sta baronissimo Guarda Questa Ah È bella Quella Ma scusa ma Ma da tutte le parti Ci sono lui e lui C'è Non lo so Ma anche La sua La mia casa Ah Ma sono Ancora Ancora Che è il film Che carino Questo Che set È Ah Ma il set Di lei Il set Di lei C'è solo quello Del film Sì questo Questa E questa A meno Che non ci No Non penso sia dietro Perché ha un altro prezzo Sì Polly Vuoi prendere quella Adopt me Adopt me Adopt me Quello che gioca Michalessi Adopt me Che cos'è? Non so Adopt me Non c'è scritto Non c'è scritto Ma vabbè Sì 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 cosa Adopt me Volevo fare la foto ad adesso Tanto io dopo glielo faccio vedere Com'è Come si chiama Adopt me Adopt me Oh la valigia di Polly Non stiamo più conto C'è C'è la cuccia per Bonny Bonny Che ci sta eh Sì Daranno e copirai Già lo so Ma queste che cosa sono? Quelle che se ti sposti ti guardano Guarda Sono inquietante Io mi sposto di qua E mi guarda sempre Questa mi sposto di qua E mi sta guardando Bruttissime Stesso bello Amici cicci Amici cicci De cicciubuelo La tua testa non la voglio vedere Ti metti davanti Se sono pure i pannolini Ma che è? Magari per i pannolini vanno bene Ma veramente ti fanno i pannolini? Eh certo Scusami Abbiamo sbagliato il reparto Dove sono? Scusa mamma Prima mamma Adopt me Sì Sì Sono sempre stati Madonna Che carina Petite Viene classificata come petite Bella Mamma È È macchina per moi? Cos'è? Cosa fa? Non c'ho paura Tra i mie? Tra i mie? È un click qui Stai muovendo la coda Ma che cos'è? Una capretta Sì è la capretta Di questa Di questa Vabbè 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 Inquitante Sì lo so Ho visto Prima l'ho fatto vedere Bello Bello All per voi No Sono Vabbè Mi contro te È Lì Nì Lì 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 Questa Cosa struvo? Cosa è? C'è un animale del genere Loro? Lì 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 io sono Sofì e io sono lui si certo però negarli allora Simona allora Simona allora Simona oh madonna sei ingrandita c'è un cavolo da prendere c'è un cavolo c'è un cavolo c'è un cavolo oh oh c'è un cavolo c'è un cavolo c'è un cavolo vamos si sei proprio sicura di quello che tu stia facendo ah beh solito ragazzi avrà preso qualcosa la Toys cioè no che lei proprio eh papà Luca gli voleva fare un regalino visto che è brava una brava bambina e avrà scelto qualcosa che pelli prendi da sotto che brutto eh vabbè cosa faccio c'è la gente poi così non riprendo nessuno adesso stiamo andando a prendere qualcosa da manger ma non è la prima volta che veniamo qua al Ducale e devo cercare il supermercato il supermercato dove sta sconsami madonna mia ma c'è un altro piano ma scusate ma dove è il supermercato qua ci sono i negozi ah eccolo l'altro quello 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 io mi tolgo sarà quello vedo parecone io sarà già il supermercato lo shopping continuo a pieno supermercato col cavolo dov'è? dove? me l'ho fatto proprio apposta eh da sta roba con la carne c'è la tupo eh guarda chi c'è non ci credo 40 euro però eh sì eh perché ha la testera io non la trovo più la mia non so non ci dirai sì ma 40 euro andiamo a vedere eh oh eh cosa vuoi andiamo a vedere il reparto natale sta vicino eh oh facciamola qua oh che bello vediamo gli alberelli qua tre albero di aziaulo vediamo un rosso rosso ma come fa il dito medio ma dai uniamo ma dai no io ciao me ne vado e non tornerò mai più e ciao ciao guarda che belli oh oh beh cavolo dove lo metto non me lo ficco l'albero e gnau gnau dai cosa c'è vergogna simone è pronto vabbè oh l'organza per tavolo figo guarda qua tutti per fare i lavoretti mi sa le palline le abbiamo un paese poi vedrete a che ne so io 2,50 euro mamma mia c'ha giù sai questo invece 4 euro costano un botto a me piace la campanella aspetta aspetta è piccolo dai spacchiti ucciuccio mi sta stringendo la testa questo quanto costa 6 euro però vabbè ciao ah queste sono le buste per mettere dentro i soldi dai credo che qualcuno almeno ci vedrà se se ah qua ci sono le luzzi ah guarda qua 2 euro per l'alberello ma sono tutti sperlucciati vabbò questo cos'è vedete orfanie sticker oh 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 no no costa 2 euro ma vabbà ma vabbà ma che cosa c'è ma che cosa c'è lo sapevo quanto costa quanto costa ciao madonna costano un botto 1 euro 10 euro hanno 8 euro 2 centesimi dai non ci crederò mai 6 euro 6 euro 6 euro Barnaba 8 euro ma vabbò queste 15 euro si ma stanno tutti si ma stanno tutti va bene ma non si numerano più neanche ma non si numerano più neanche qua qua cosa c'è qua cosa c'è oh sì lo so che ho topoare 2 euro e 50 eh lo metti con l'igloo con l'igloo si ccci cecci 30 euro 3 euro 1,50 carino ma si vede ma scusa non c'ha un altro ma si vedono un po' fatto male un po' staccato per me noi possiamo la sbagliare Mamma, qua, ah no non è la maionese, è l'olio di cocco, olio, i pannolini, mamma vuoi i pannolini, guarda quanti pannolini, mamma, mamma, hai grattato la schiena? Non c'è qua Dai, dai, cipolle Guarda cipolle, sono cipolle, però che, no 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 Ma dove la mani la mia? Non la voglio fare in mani la mia, ma non c'è? C'è la cucchiazza? Credo, mi si Pasta nuovo, non serve il frattuano Ehi Sì Dove? Ah no Sì, dove? No No, dai, cipolle E così che le patatine ci sciogliono Sciogliono E... Ma che stai orlando di centrodotte? Se l'hai scorreggiato tu? No C'è qualcuno che fa... Sì, quella signora che ha fatto il giro di qua, è venuta di qua, ha scorreggiato e scappato dalla... Ma che puzza, madonna Madonna, ma di nuovo marcio Mamma mia Tanto cielo, ho mandato a scorreggiare... Eccole qua Ma no, non è questa E salva birbir Madonna, ma da star male, eh Ma cosa c'ha nel culo? Cacca ferma da due giorni? Eccole qui Oh, ma non è che ci attacca qualcosa, qualche virus Non c'ho voglia di stare ancora male, eh Sasa bughe Madonna Madonna Ma non va via sta puzza Ma non è che questa qua avanti che sta scorreggiando Ma io non vedo maionese Madonna Non lo sto male E' la? Dai, prendi sta maionese che veramente fa tutti fette Dai, ce la fai anche salire Vedi per i nani? Per i nani va bene a polo? Eh Ma perché? Ma perché? Le binghe questi... Si chiuse la sola? Te lo giuro Te lo giuro E' in automatico Questa è la macchina automata Questa è la macchina automata Ma che qualcuno ha spinto la portiera Perché avrà detto Allora, te ne vai o no? Che stai facendo casino e stiamo chiudendo Eccoci a casa Con il divanino nuovo Comunque Comoda lei eh Sono le... Guardate che ore sono le dieci e mezza Siamo usciti da lì per coppa alle otte e mezza E secondo voi Ci siamo perse Perché da Vigevano Dove abitiamo E' mezz'ora di distanza Siccome che abbiamo messo la musica E ho detto Vabbè, andiamo All'intuito Arrivati giusti 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 Ma Ma Ha una passata Dove abbiamo già Tre premi Invece abbiamo proseguito Dritto Siamo ritrovati al cartello di Torino Che casino Comunque Fai vedere cosa ho preso? Che cosa? E' quella Ma quella l'avevano già vista? E' quella l'ho preso Ma va a dormire, va Papà Luca gli ha detto Che gli avrebbe fatto un regalo A me ma è niente Io non lo so Io Vedi, vedi, vedi E niente Stiamo guardando Grande fratello Che è un perla Nergo Dai E che si rimettono insieme Vabbè comunque Te gliela passo da sottobanco Cosa si è presa? Va bene Gira Gira Na 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 Ha preso Sunny Madison Questo è il vestito della sfilata E niente Lo vedrete in un prossimo video Tutto dedicato a Sunny Ma che belle che sono Basta 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 Saluto a Simona Ciao Con Sunny è tutto Ehm Al prossimo video eh La vedrete nei minimi dettagli Però prima Quella lì su Dopo questa qui giù E no anzi Che dovete vedere anche il volantino della toys tutta felice e contenta ciao ciao